Sei un'impresa? Unisciti a noi. Win-Win è la rete che unisce cittadini, imprese e organizzazioni con l'obiettivo di contrastare disoccupazione ed esclusione sociale, creare una rete di imprese socialmente responsabili, fornire misure di supporto per lo sviluppo dell'azienda aderenti. Puoi ospitare tirocinanti e partecipare alle iniziative per lo sviluppo della tua impresa. I costi dell'indennità di tirocinio sono interamente coperti dal progetto Win-Win. Perché Win-Win può cambiare la vita a più di 100 persone, offrendo grandi vantaggi alle aziende che le ospitano. Con tirocini finanziati, sportello imprese per ricevere gratuitamente supporto su questioni giuridico, fiscale ed economico-aziendale, attività di promozione dell'azienda e sul portale della rete, consulenza su opportunità di finanziamento per la formazione e aggiornamento continuo dei lavoratori. Win-Win. Io vinco. Tu vinci.